Notizia importantissima, sono stati prosciugati più di 5.000 wallet solana e sono stati rubati o comunque persi per un exploit 8 milioni di dollari in wallet a causa probabilmente di uno smart contract. Non si sa ancora precisamente qual è la motivazione ma tutti i wallet come Phantom, Solpe o Solflare oppure Trust Wallet sono stati prosciugati a caso di un exploit sconosciuto ad oggi. Il consiglio che si può dare è quello di andare a spostare tutti i propri Sol sopra un wallet di un exchange se fai o addirittura su un hardware wallet come può essere il Ledger Nano S. In questa maniera avrete per adesso la certezza che i vostri token, i vostri coin Sol siano al sicuro. Il controvalore dei coin momentaneamente persi sono circa di 8 milioni di dollari, addirittura è stato anche bucato il wallet per quanto riguarda il servizio di NFT più grande per Solana, Magic Eden. Mi raccomando ragazzi non facciamo stupidaggini, il modo migliore per detenere i nostri soldi, le nostre criptoalute è sicuramente un hardware wallet ma in questo momento possiamo anche spostarli in maniera molto più veloce su un wallet se fai. Andiamo a vedere anche il prezzo di Solana che in queste ultime ore circa dal 18 di ieri fino alle 2 di notte di oggi è crollato addirittura dell'11%. Adesso abbiamo recuperato, siamo a 39 dollari quindi circa al meno 7%. Mi raccomando ragazzi andate a fare subito questo spostamento, è molto importante, potrebbe capitare una catastrofe e farvi perdere i vostri soldi e poi ragazzi sappiamo bene che Solana e Sol sono ancora in beta test e purtroppo questi problemi possono verificarsi. Mi raccomando è un qualcosa di veramente importante, non perdere i vostri soldi, ci ho messo il tempo minore che potessi metterci e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!